Si continua a parlare di sanità nei palazzi dell'istituzione, i gruppi di minoranza questa mattina hanno indetto una conferenza per affrontare il tema della sanità nello Spezzino e in Liguria. Per domani è previsto un consiglio comunale straordinario che vedrà protagonista una mozione affinché la maggioranza e la minoranza possano votare compatte e avere una presa di posizione per quanto riguarda la sanità nel nostro territorio. In Liguria la sanità anche nello Spezzino continua a essere un tema caldo, quali sono i dati che ci danno il quadro di questa situazione? La Liguria e anche la provincia della Spezia su questo ha un dato tremendo, ha il primato di accesso come codici bianchi al pronto soccorso, c'è un problema legato alle liste d'attesa, c'è un problema legato al personale, si calcola che ci siano circa un membro del personale sanitario per 93 abitanti quindi insomma parecchi e c'è un problema legato sostanzialmente ai costi, soltanto nei primi quattro mesi del 2023 sono stati spesi 450 mila euro per prestazioni aggiuntive, come può ci chiediamo ASR5 farsi carico di tutti questi costi in una situazione così critica? I problemi che si registrano sul territorio Spezzino sono stati anche portati in regione, in particolare il consigliere regionale Roberto Centi, proprio questo pomeriggio si è reclato a Genova per affrontare il tema in Commissione Sanità. Sto recando a Genova per l'illustrazione del piano sociosanitario che secondo noi è una specie di libro dei sogni steso in un linguaggio aziendalistico che risente molto ancora della mano del vecchio coordinatore della Missione 6 Profitti e già ci sono elementi di forte negatività sulla Liguria, l'accentramento su Genova, l'accentramento tra ASL1 e ASL2, ASL4 e ASL5, la mobilità passiva altissima, la dipendenza oramai di regione Liguria dai privati. Ecco, quando trasferisco le considerazioni della regione Liguria sul territorio Spezzino tutte queste criticità aumentano, si fanno più gravi e ci rendiamo ancora conto che in una situazione gravissima che è quella della Liguria, ancora di più grave è quella della Spezia che ha i parametri molto al di sotto di quelli di altre ASL della regione Liguria. Le condizioni in cui versa la sanità Ligure si rifanno non soltanto sui pazienti, quindi i cittadini, ma anche sui medici e sul personale paramedico e infermieristico che spesso sceglie di andare a lavorare altrove. A Savona c'è un operatore ogni 58 abitanti, un operatore sanitario, a Spezia siamo invece a uno ogni cento, quindi siamo in una sproporzione pazzesca anche rispetto alla media regionale. Questo è stato denunciato da molti anni, ma non c'è un'inversione di tendenza. Ora perché non c'è un'inversione di tendenza? Intanto perché non c'è una città governata in modo autorevole, libero di pensiero, eccetera, quindi c'è una città pilotata in sostanza da Genova che quindi non oppone resistenza rispetto a queste dinamiche, che sono dinamiche genovacentriche. E poi perché la realtà spezzina richiederebbe progetti, investimenti, energie, uno sforzo anche culturale per essere attrattiva. Anche perché poi quando tu devi lavorare così tanto male in strutture inadeguate, anche proprio dal punto di vista strutturale, cioè degli edifici, eccetera, è chiaro che gli specialisti scappano.